Nicolás Brienza, doppietta ma soprattutto una vittoria per voi che significa continuare il percorso nei play-off, soddisfatto di questa partita? Sono molto soddisfatto della prestazione che abbiamo fatto in primissima, ma anche dalla squadra e del mister e di tutte le persone che ci sono dietro a questa cosa. Spero che arriveremo lontano, partita per partita cerchiamo di compiere questo obiettivo che è diventato ora reale. C'è grande intesa soprattutto con Luca Pesce, ma un po' in tutto il reparto offensivo, un tridente lì davanti che vi vede sempre protagonisti, qualche altro gol potevate farlo, avevate rischiato soprattutto all'inizio, però insomma una gara controllata dall'inizio alla fine. Sì, è stata una partita all'inizio equilibrata, poi abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, i gol sono arrivati, il primo tempo siamo stati un po' sfortunati, però l'importante è che abbiamo portato questa vittoria a casa e siamo passati al turno successivo. Adesso si fa veramente dura perché questo era il primo turno, si incrociavano le prime con le seconde, adesso si può beccare già qualche prima, dove potete arrivare secondo te? Allora, come sappiamo giocare noi, secondo me possiamo farcela, possiamo lottare a testa alta con tutti quanti e niente, possiamo farcela e possiamo rischiare anche di arrivare fino alla fine in questi playoff. Chiudo, è la domanda che faccio un po' a tutti i giovani della Juniors, immagino che il sogno sia sempre arrivare a giocare in prima squadra, quest'anno magari è andata, però il sogno per il futuro immagino ci sia. Vabbè, diciamo che me lo sono imposto come anche obiettivo personale, diciamo, di entrare a far parte del gruppo della prima squadra, sperando che il mister mi veda con tutte queste partite, queste prestazioni che sto facendo e vedremo il futuro cosa ci porterà. Grazie.